Cominciamo male. Gli appassionati si lamentano per questa Formula 1 che non sempre è decifrabile e che cosa succede alla prima gara del Mondiale? Che Hamilton, con pieno merito ci mancherebbe, vince il Gran Premio del Bahrain perché Verstappen, superandolo, è uscito dalle righe che delimitano la pista. Ci sta, la pista è quella che è, bisogna rimanerci dentro. Ma poi salta fuori una norma ignota IPU, secondo la quale era stato addetto ai piloti o ai team o qualcuno che transitava nei dintorni, che alla curva 4, quella incriminata, ci si poteva pure allargare, a patto di non avvantaggiarsi. Il che, in assoluto, è un concetto un po' vago per essere incluso in quella che dovrebbe essere la scienza esatta dei Gran Premi, ma tant'è, certe cose non le capiremo mai. Al di là di questo, nel deserto del Bahrain abbiamo visto due fenomeni. Verstappen, che ha pagato carissimo il solo errore di tutto il weekend, e Hamilton, che stavolta ha vinto con una Mercedes che non valeva la Red Bull. Perfetta la monoposto austro-britannica, un po' ballerina come tenuta di strada quella tedesca made in England. Ma siccome Hamilton non pare affatto un campione avviato ad un futuro imminente sulle passerelle della moda, ecco che non ha mai mollato e ha dato tutto, anche di più, senza mai arrendersi. La staccata con cui ha indotto Verstappen all'errore è da cineteca e salda un conto in sospeso col rivale, perché proprio Verstappen aveva detto più volte durante l'inverno che chiunque sarebbe stato capace di vincere con la Mercedes. Beh, a vincere in un certo modo, fino a prova contraria e con una macchina inferiore, c'è solo Lewis, mentre Max, al contrario, ha probabilmente perso per quel vago senso di superiorità che lo ha portato ad allungare troppo il percorso con il penultimo treno di gomme medie. Se fosse fermato prima, forse ce l'avrebbe fatta. Dettagli che fanno una differenza abissale. E gli altri? Bene la McLaren, benissimo Norris IV, meno bene Ricciardo VII. La Ferrari ha cominciato meglio di come aveva chiuso il 2020 ad Abu Dhabi, però le Clerc VI ha rimediato 59 secondi in 56 giri, che equivalgono più o meno a un distacco di un secondo a giro, decisamente tanto, e dice quanto lavoro ci sia ancora da fare a Maranello. Comunque abbiamo apprezzato molto Leclerc, un diavolo in qualifica ha inizio il Gran Premio, ci è piaciuto pure Sainz che deve ancora ambientarsi, ma ha intelligenza e furbizia per andare lontano. Vettel con l'Aston Martin è lo stesso della Ferrari di novembre. Lo dice il suo distacco, un giro, con l'aggravante di un errore da principiante. Una lode la darei a Raikkonen, che è ancora entusiasmato e ha mostrato cattiveria da vendere nonostante guidi una Sauber col marchio Alfa Romeo che continua a commettere errori inconcepibili in Formula 1, la cui vittima è puntualmente il povero Giovinazzi. Un'altra lode la riserviamo a Yuki Tsunoda, debuttante che guida l'Alfa Tauri, ovvero la vecchia Minardi, ed è un tipo che ci farà molto divertire. Ha solo vent'anni e agli inizi, però ha mostrato qualità stratosferiche. Poi regalo due caffè. Il primo ad Alonso, che mi ha entusiasmato nei primi giri, ma ha pagato i limiti abissali della Renault mascherata ad Alpine. L'altro a Mick Schumacher, sedicesimo e ultimo, giunto al traguardo al suo primo Gran Premio. Si consoli, suo papà Michael si arrese dopo pochi metri a Spa. A pensarci bene, forse sarebbe meglio aggiungere un terzo caffè al suo team, la AS, affinché si dia una sveglia. Adesso ci saranno due settimane vuote e poi si correrà a Imola, pista ben probante e divertente di quella del Bahrain. Ma che bello se le colline del Santerno tornassero a tingersi di pubblico. Non è un messaggio politico, è solo la speranza che il sogno si avveri allontanando lo spettro del Covid. A presto.